Gloria Angeletti, siamo qui con lei questa sera per lanciare un tema che poi diffonderemo nell'ambito della serata. Di che cosa si tratta? Si tratta della ricorrenza della giornata mondiale della violenza contro le donne e noi abbiamo fatto come sapienza per la prima volta un master di formazione rivolto proprio alla formazione degli operatori che si occupano di violenza contro le donne. Qual è la richiesta maggiore? Quali input vi arrivano? Quali sono gli SOS? Quali sono le domande alle quali cercherete di dare una risposta? Noi abbiamo una grande esperienza e formazione nell'ambito del pronto soccorso, del primo soccorso quindi della richiesta e soprattutto in ambito di conseguenze sulla salute però faremo formazione ad ampio spettro partendo da quelli che sono i contenuti culturali, il contesto culturale, l'evoluzione storica. Abbiamo una parte molto particolare che è una grande novità che è un modulo dedicato al vissuto della città, come la violenza si declina all'interno delle città e come si possono modificare anche urbanisticamente la relazione tra violenza e città e poi tutte quelle che sono la formazione di rete, il lavoro di psicologi, il lavoro di medici, giuristi, avvocati, formazione a tutti i livelli, forze dell'ordine perché se non si fa rete non c'è possibilità di contrastare la violenza. Questa è la serata giusta, lanceremo questa iniziativa nel corso della gara, subito dopo aver avuto i risultati io ringrazio Gloria Angeletti per essere stata con noi. Grazie.